Star Newton Live Contest Animali Santina Nella cantina di un palazzone tutti i gattini senza padrone organizzarono una riunione per precisare la situazione 44 gatti in fila per 6 con il resto di due si unirono con patti in fila per 6 con il resto di due coi baffi allineati in fila per 6 con il resto di due le code attorcigliate in fila per 6 con il resto di due 6 per 7 con il resto di due più 2 è 44 loro chiedevano a tutti i bambini che sono amici di tutti i gattini un pasto al giorno e all'occasione poter dormire sulle poltrone 44 gatti in fila per 6 con il resto di due si unirono con patti in fila per 6 con il resto di due naturalmente tutti i bambini naturalmente tutti i bambini tutte le code potevano tirare ogni momento e a loro piacere con tutti quanti giocarellare 44 gatti in fila per 6 con il resto di due si unirono con patti in fila per 6 con il resto di due coi baffi allineati in fila per 6 con il resto di due le code attorcigliate in fila per 6 con il resto di due 6 per 7 è 42 più 2 è 44 quando alla fine della riunione fu definita la situazione andò in giardino tutto il plotone di quei gattini senza padrone 44 gatti in fila per 6 con il resto di due marciarono con patti in fila per 6 con il resto di due coi baffi allineati in fila per 6 con il resto di due le code dritte dritte in fila per 6 con il resto di due 44 gatti in fila per 6 con il resto di due marciarono con patti in fila per 6 con il resto di due coi baffi allineati in fila per 6 con il resto di due le code attorcigliate in fila per 6 con il resto di due con il resto di due con il resto di due Grazie.